Non siamo riusciti a dare tutto quello che potevamo nella prima partita, ci siamo riusciti nella seconda, ora noi contiamo di essere continui perché questo è un campionato sicuramente molto bello, ma se non sei continuo non riescono ad arrivare i risultati da noi preposti. Samuel, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di guardare il mondo da lassù? Sì, i vantaggi sono il basket, che poi riesci a trovare qualsiasi cosa, non hai bisogno della scala, altri vantaggi, mentre gli svantaggi però forse possono, noi abbiamo girato alcune immagini nel tuo appartamento, ci dicevano che sei in attesa del nuovo letto. Sì, sì, se mi è appena arrivato ieri il letto è abbastanza grande, ogni cosa la devo aspettare, ogni cosa la devo fare fatta a sua misura, le scarpe, le macchine. Quanto calzi? 52? 58. 58, questo ti crea un po' di problemi insomma. C'è più attesa delle cose, no? Ad esempio ci dicevano che sei stato sulla neve, ti piaceva tanto però non hai potuto sciare perché non c'erano degli scarponi adatti. Perché scarponi, sì. Purtroppo sì, che alcune cose non posso farle perché per la mia misura non posso.